No, 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 non ci provare! Non provare a sganciarla! Isaac! È l'unico modo, Ellie. C'è il supporto vitale. Ehi, te la caverai. Oh, bastardo! Dovevo farlo, Ellie. Sì, ho fallito con Nicole, ma posso salvare te. Quindi... Addio. Ora sei pronto a parlare? Perché? Per lasciare anche te? Non posso, Nicky. Non ho mai voluto lasciarti. Sono successe cose che non volevamo. Isaac... toccami. Non credo sia una buona idea. Isaac, ti prego. rendici uno. Non posso. non ho quale divinità ti protegga, ma finisce qui. E in questo momento tutte le entrate sono sorvegliate da 200 agenti ben armati. anche se dovessi entrare, non andrai molto lontano. Anche se dovessi entrare, non andrai molto lontano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.